Ciao amici, si torna a parlare di saggi scientifici finalmente. Il libro di cui vi parlo oggi e di cui non vi ho parlato prima perché non l'avevo qua disponibile è ovviamente Jared Diamond, Armi e Accei e Malattie, Breve Storia del Mondo Negli Ultimi 13.000 Anni e in Audi Super ET in questa edizione nuova che è anche la post-fazione dell'autore scritta nel 2003 tra l'altro mi fa ridere che, dopo lo leggiamo, nella quarta di copertina c'è Bill Gates dopo leggiamo quello che ci scrive Bill Gates che però so essere un grande fan dei libri di divulgazione scientifica allora, che libro è? È un libro molto famoso di divulgazione perché è molto famoso ha vinto il premio Pulitzer nel 97 per la saggistica ovviamente ed è scritto da Jared Diamond che è Jared Diamond è un, diciamo, naturalista statunitense biologo, fisiologo, ornitologo, antropologo, geografo, se vogliamo quindi diciamo un esperto del campo infatti in questo libro lui espone delle tesi che ha iniziato a studiare nel 1972 e dopo, anzi alla fine del video, vediamo qual è il filo conduttore di tutto il libro che è la cosa forse più bella di questo saggio e cioè il fatto che risponda a una domanda quindi è molto semplice da seguire perché sai che cosa dove sta andando a parlare l'autore è un libro semplice? no, diciamo a livello almeno intermedio perché comunque è bello grosso ha 380 pagine circa scritte fitte e soprattutto scritte, questo forse, ecco, per noi non è un grosso pregio scritte in stile divulgativo americano non so se avete presente cosa si intende per stile divulgativo americano comunque è abbastanza ridondante nel senso che ripete spesso gli stessi concetti all'infinito ok, è una roba che ha già detto nel capitolo prima la ripete nuovamente e diventa un po' pesante qual è la domanda a cui risponde? dopo vi leggo proprio il prologo dove introduce questo tema la domanda di Iali chi è Iali? è un guineano non quello in foto ovviamente vabbè, non credo, quantomeno e qual è questa domanda? questa domanda è perché sostanzialmente nel 72 viene fatta questa domanda? perché gli europei, diciamo gli occidentali hanno così tanto cargo cargo inteso come materia di scambio mentre noi guineani non ce ne abbiamo ok? perché mettiamola così in termini più semplici? perché l'Europa e l'Occidente si è sviluppato così bene così rapidamente mentre altri popoli, altre regioni del mondo no quali sono le tesi di Diamond? allora le tesi di Diamond sono di tipo antropologico, evoluzionistico, geografico ok? to cure e sono appunto che la differenza di evoluzione sia dovuta alla presenza di armi, acciaio e malattie spiega molto bene con tantissimi esempi forse troppi appunto come ad esempio una grande varietà di materie prime che possono essere addomesticate dall'uomo e anche spiega perché alcuni sono stati addomesticati e altri no renda possibile l'aumento della popolazione quindi l'aumento demografico e questo aumento demografico renda possibile la nascita di nuove malattie questa cosa ormai dovremmo averla imparata anche noi e di perché queste malattie sono importanti per lo sviluppo dell'uomo e di come i conquistadores che sono andati in America del Sud involontariamente abbiano portato delle malattie e del perché l'America del Sud nel 400 o 500 non avesse queste malattie perché vivevano più separati di altri eccetera 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 e l'acciaio beh ovviamente di come un popolo più sviluppato possa averla meglio sugli altri ma all'interno del libro ci sono tantissimi esempi anche di proprio situazioni molto specifiche di alcuni popoli dell'Australia ad esempio dell'Oceania diciamo così di come si fanno la guerra del perché si fanno la guerra di come si sono sviluppate le loro società ok molto molto interessante quindi il libro è assolutamente consigliato ad un pubblico adulto diciamo non come libro introduttivo perché è un po' difficile non ho letto altri libri di Diamond ma so che ce ne sono altri due molto molto apprezzati io comunque sia ve lo consiglio assolutamente se volete sapere perché i popoli si sono evoluti in maniera diversa quindi beh questa ovviamente è una teoria ok ce ne sono altre di teorie simili comunque questa è molto convincente e al di là della teoria che c'è alla base fornisce un sacco di informazioni interessanti e utili ok su come si addomesticano gli animali ad esempio su come nascono le malattie tutto molto interessante ora vi leggo la quarta di Bill Gates qua dietro e poi solo come pezzo finale l'introduzione diciamo la domanda di Yali allora Bill Gates dice di questo libro l'affascinante libro di Diamond è il primo saggio che affronta di petto il problema centrale della nostra storia perché gli europei e gli asiatici hanno dominato quasi tutto il pianeta e non gli africani, gli americani o altri popoli ancora nativi americani ovviamente la domanda di Yali invece è questa pagina 4 prologo molti coloni bianchi disprezzavano i primitivi guineani senza mezzi termini anche il più sciocco tra i padroni bianchi chiamati ancora così nel 1972 godeva di uno standard di vita assai più alto di un politico locale importante intelligente come Yali eppure io e lui sapevamo benissimo che in media i locali erano abili e capaci in almeno quanto i colonizzatori fatto questo su cui doveva aver rimuginato a lungo quando mi chiese fissandomi con i suoi occhi penetranti come vai voi bianchi avete tutto questo cargo e lo portate qui in nuova guinea mentre noi neri ne abbiamo così poco era una domanda semplice che proveniva dalla sua esperienza diretta sì le differenze tra lo stile di vita dei locali dei bianchi erano e sono ancora enormi e lo stesso si può dire per molte altre parti del mondo differenze enormi che devono avere cause fondamentali anche se noi potremmo ritenerle ovvie eppure la semplice domanda di Yali non ha una risposta altrettanto semplice io allora non seppi cosa dire gli storici nemmeno visto che sono in grande disaccordo e i più ignorano del tutto la domanda negli ultimi anni ho studiato a fondo alcuni aspetti dell'evoluzione dell'uomo della sua storia e del linguaggio ora 25 anni dopo in questo libro posso cercare di rispondere a Yali arrivederci